Buon pomeriggio, benvenuti a questo nuovo appuntamento con il nostro bazar culturale che si compone di due brani. Il primo brano è quello di cui è assoluto padrone. Simone Gambacorta, perché parliamo di libri? Libri del villaggio. Buon pomeriggio. Buon Simone, ecco qua. Ciao Simone. Buon pomeriggio carorino. Ciao, buon pomeriggio a te Simone. Allora, tanti libri anche oggi, vero? Tanti e sempre non pochi ma buoni, ma tanti e ottimi. E ottimo. Optiamo per quest'altra forma. Mi piace. Dai, allora. Guarda, io voglio partire oggi con il ricordo, l'omaggio, il tributo di una grande, importante scrittrice italiana, Aquilana, tra l'altro. Tra l'altro, sì. È mancata esattamente vent'anni fa. Noi nella scorsa stagione di lei già abbiamo parlato, perché alcuni suoi libri sono stati recuperati. L'audomia Bonanni, un nome che dovrebbe essere assai più presente, assai più familiare per i lettori di tutta Italia. Ecco, qui abbiamo due sue opere, il bambino di pietra e l'adultera. La Bonanni, uno pubblicato da Clicol, l'altro da Elliot, questi li potete trovare, si è occupata prevalentemente di tematiche femminili, dell'infanzia. Ma lo ha fatto sempre con il suo stile chiuso e al tempo stesso perforante. Chiuso perché la sua è una scrittura felicemente blindata nel suo passo, ma perforante perché riesce poi sempre ad aprire degli scorci che lasciano colpiti i lettori, che è quello che fanno appunto i grandi scrittori. Sì, tuttavia io adesso volevo ricordarla con un romanzo che peraltro è uscito postumo, il suo ultimo romanzo che ho qui con me. Il titolo è La rappresaglia e già il titolo fa comprendere che si parla di un romanzo, e da qui il motivo per cui ho scelto questo libro per ricordare questa scrittrice, purtroppo ambientato in tempo di guerra. In tempo di guerra come è, seppur in maniera differente da quella che è raccontata in questo libro, quello che viviamo noi. Questo volume è stato pubblicato tempo fa da Textus, al momento non è di facile reperibilità, ma può essere trovato e spero che venga ridiffuso quanto prima, perché così si amplia la rosa delle opere della Bonanni che sono in circolazione e che vale la pena leggere. Questo libro lei lo finì nel 1985 e poi per una serie di traversie burocratiche ed editoriali non fu pubblicato. È rimasto inspiegabilmente nel cassetto e c'è qualcosa di veramente strano, perché la Bonanni ha sempre scritto libri alti, libri importanti. Questo forse, mi spiace usare un'espressione che non significa quasi niente, ma la devo usare per forza, forse è veramente quello più bello di tutti. Ed è incredibile come il libro più significativo, più rappresentativo, almeno parlo dal mio punto di vista, di questa scrittrice che appunto vent'anni fa è venuta a mancare, sia rimasto per tanto tempo in qualche modo nascosto, in qualche modo dimenticato. In questa edizione che è stata recuperata e curata da Carlo De Mattesi, il quale poi ha pubblicato una molto, molto attenta e approfondita introduzione, si racconta una storia atroce, una storia atroce che solo la sciuttezza della Bonanni è riuscita a rendere priva di sbavature. Una donna, una partigiana, la rossa, questo è il suo soprannome, è incinta, viene catturata da un gruppo di fascisti e una volta che avrà partorito, questi uomini la fucileranno, la giustizieranno. È un libro che tiene alto questo enorme, tragico voltaggio, questa enorme, tragica tensione dall'inizio alla fine. E quello che avviene tra questi due momenti, tra la cattura e la fucilazione, il parto, è tutta una lotta, una tensione, un confronto tra questa donna che sfida, che non si piega in nessun modo a questa banda, a questo branco di persone che appunto ha deciso di giustiziarla, e questi altri uomini che si trovano a fronteggiare una situazione che li macchierà, li macchierà indelebilmente per sempre. La storia è raccontata a distanza di tempo da una persona, da uno di questi appartenenti al gruppo. Quello che però mi spreme sottolineare di questo libro non è solo che è importante parlarne perché c'è la ricorrenza del ventennale, di questa pur importantissima scrittrice o solo per la tematica bellica, solo, tra virgolette, che chiaramente non è solo per questo, ma perché è una riflessione sulla implica, suggerisce, suscita, scatena una riflessione su quello che realmente è ogni guerra, cioè che questa disumanizzazione completa, totale, lo abbiamo visto anche con scene non diverse da quella che è raccontata qui. Sì, qui c'è questa madre che viene uccisa, ma le cronache di questi giorni, come purtroppo quelle di ogni guerra, ci raccontano scene altrettanto terribili che resteranno dei capitoli immondi, È vero, purtroppo è vero. Immondi del nostro immaginario e della nostra memoria. E la statura letteraria di una scrittrice come Laudomia Bonanni serve oggi proprio a questo, a riconciliarci, riavvicinarci con quel senso umano che non è buonismo, ma che è coscienza di essere all'interno di una situazione che non può più contemplare determinate deride. E lo acquisiamo agli atti, come abbiamo detto, sperando che venga recuperato. Credo, facciamo anche una lampeggiata, Simone. Sì, assolutamente, in ogni caso circolando sulla rete può essere recuperata la rappresaglia o possono essere recuperati gli altri due libri di cui abbiamo parlato prima, Il bambino di pietra e l'adultera, che sono libri dei quali, lasciamelo dire, ci siamo occupati, ripeto, anche nelle precedenti stagioni di questa trasmissione, perché se è importante segnalare gli anniversari, le ricorrenze e quant'altro, è anche importante ricordarsi degli scrittori e delle scrittrici, anzi delle scrittrici e degli scrittori anche al di là delle loro, appunto delle date che ce ne suggeriscono i nomi. Giusto, però oggi siamo tutti concentrati sui nomi e sulle date e sulle ricorrenze, ma a proposito di date di ricorrenze, a proposito della Bonanni, a proposito di altre scrittrici come Lalla Romano, come Paola Masino, come Anna Maria Ortese, come Elsa Morante, vabbè adesso non le elenco tutte, io vorrei segnalare la nuova edizione di questo libro di Sandra Petrignani, questa è un'edizione che io, le signore della scrittura, pubblicato dalla Tartaruga, di qualche tempo fa, ma è stato ripubblicato e adesso credo che, eccolo qui, in una nuova edizione, vedete, ci sono Natalia Ginzburg e Elsa Morante in copertina, in questa nuova edizione ci sono delle interviste, c'è anche la nostra Bonanni di cui parlavamo prima, è un ottimo modo per approfondire, conoscere un percorso scrittorio, o un percorso letterario a confronto e vicino ad altri percorsi scrittori, ad altri percorsi letterari, che poi completano un quadro di scrittura, appunto, Orfemi e le signore della scrittura, che Sandra Petrignani ha esplorato in tempi, come si suol dire, non sospetti, poi l'ha fatto anche con altri libri, abbiamo parlato di recente, appunto, della biografia, la Corsara, che ha scritto su Natalia Ginzburg, ecco, poi parleremo anche più avanti di altri libri, di un nuovo libro di questa scrittrice, ma mi sembrava opportuno ed è giusto agganciare al discorso sulla Bonanni le signore della scrittura, e che quindi acquisiamo agli atti, la nuova edizione, io ho quella un po' più tranquilla, la poggio qui, bene, tranquilla, quella che avevo io, che ho comprato tanto tempo fa, ricordo anche, io però lampeggio, questo libro l'ho comprato ad Ascoli Piceno, non a te, non mi ricordo ancora quando, e mi sembra duopo, come si suol dire, la lampeggiata, vai, dicevamo gli anniversari, un altro, lo sappiamo, ci torneremo, lo abbiamo detto la scorsa puntata, lo diremo più avanti, c'è il centenario della nascita di Pierpaolo Pasolini, e questo è un fatto che non sfugge a nessuno. Nell'importanza ribadita, mai abbastanza, che questo fatto non sfuga a nessuno e continua a non sfuggire a nessuno, va anche detto che tante altre date, o se non tante, diverse altre date, vanno in qualche modo ricordate, abbiamo parlato per esempio qualche tempo fa appunto di Giorgio Manganelli, oggi della Bonanni, ma c'è anche il cinquantenario della morte di uno straordinario scrittore italiano, che è stato Dino Buzzati. Questi sono, Dino Buzzati ha scritto tantissimo, questi sono, non si vede benissimo, alcune copertine, la terza copertina, sono alcune delle copertine di Buzzati, Il segreto del Bosco Vecchio, Un amore, Buzzati al giro d'Italia. Se restiamo un attimo su queste tre copertine dico qualcosa velocemente, ho scelto di portare anche Buzzati al giro d'Italia perché Buzzati è stato uno straordinario giornalista, oltre che essere stato un mostruoso scrittore per la sua bravura e per la sua capacità di inoltrarsi in mondi che possono essere definiti solo buzzatiani. Poi perché, oltre a questo libro, Buzzati al giro d'Italia, così come la nera di Buzzati che raccoglie parte dei suoi articoli di nera, ci offrono un osservatorio splendido su questo grande giornalista che resta un grande scrittore anche quando fa il giornalista. Quando fa la cronaca. Tra altre cose questo potrebbe essere di monito e di nutrimento per chiunque fa questa proposta. Per tutti si avvicinano a questo mestiere. Poi ci sono romanzi indimenticabili, Un amore è un classico, ma io ho letto tanto di Buzzati, Il deserto dei tartari non l'ho portato perché è come portare per fortuna i Promessi di Sposi, cioè un libro quanto a notorietà, non siamo sullo stesso livello naturalmente. Il segreto del Bosco Vecchio è uno dei libri più belli in assoluto che abbia mai letto, probabilmente fra quelli di Buzzati è quello a cui sono più legato, perché non mi ricordo neanche bene la trama, mi succede spessissimo con i libri, non è importante ricordarsi la trama, l'importante è vivere quello che si legge, farsi attraversare da quello che si legge e serbarne delle sensazioni, delle immagini, degli scorci. Io con questo libro di Buzzati, con questo suo mondo surreale, con queste sue atmosfere insondabili, con questo suo tocco che guarda a cose che non siamo in grado di comprendere, e con questa sua scrittura dal punto di vista dello stile sempre asciuttissima, sempre secca, io credo di poche altre volte di aver avuto e di conservare poi delle sensazioni in termini di atmosfere immaginate, così forti come con il segreto del Bosco Vecchio. Una cosa simile è successa per esempio con Berne, con i romanzi di Jules Berne, perché 20.000 leghe sotto i mari che non ho letto quando ero piccolo, l'ho letto quando ero più grande, non ero grandissimo, ma ho avuto una ventina d'anni, però non ricordo nulla di quel romanzo, ma mi ha regalato delle straordinarie sensazioni, delle immagini che non riesco a dimenticare. Sono d'accordissimo. Ho portato con me il Meridiano di Buzzati, Meridiani Mondadori sono il gota, o uno dei punti più alti della nostra editoria, delle collezioni più importanti, qui trovate molte opere, ma le opere di Buzzati sono presenti negli Oscar Mondadori, possono essere lette in ogni modo e maniera, ed è uno scrittore da non perdere assolutamente. 50 anni fa è mancato, con lui lo abbiamo detto, ma ci torneremo più avanti, è mancato anche, non dimentichiamolo, un grandissimo come Agno Flaiano. Ripeto, c'è il centenario di Pasolini, va benissimo, ma tanti altri scrittori, altrettanto importanti, sia pure in modo diverso, perché poi non si possono fare... No, le classifiche, vero. Le facili gerarchie, le facili classificazioni sono da ricordare e da leggere. Io lampeggio, lampeggio proprio. E mentre tu lampeggi, io voglio aggiungere qualche maligno. Diceva, ma sai, ma Buzzati è un po' un... si diceva, si è detto, in maniera molto poco simpatica, è un po' un Kafka all'italiana. Intanto, essere un Kafka all'italiana non è poco, se mi consentite. Prima ti facevo la battuta su un famoso architetto, come se uno ti diceva, se sei un Wright all'italiana, è grazie. o un Van der Rohe all'italiana, è grazie. Quindi queste definizioni, che poi lasciano il tempo che trovano, non servono. Kafka è Kafka, Buzzati è Buzzati, l'uno non esclude l'altro. Soprattutto non fatevi guidare da queste suggestioni distorsive, perché quello che conta è l'impatto con la pagina. In questo caso è un impatto molto Buzzatiano, perché si entra e non si sa dove si va a finire. Bravissimo. E dunque lo acquistiamo agli atti. Adesso siamo arrivati ai notabili, ai notabili, ma non troppo. Notabili, ma non troppo. Lo spazio di un minuto, un minuto più o meno, può essere un minuto o 60. Un minuto giù di lì, dai. Un minuto o 60, dipende da come ci sia. Non è vero, un minuto, un minuto e dieci, un minuto e qui. Cioè chi è arrivato a un minuto e diciannove. E si è allargato, però siamo rimasti nei termini. Oggi credo che, non so, non ricordo, però in questo minuto, che succede? O circa, un minuto per modo di dire, ecco la prossima volta, Lo possiamo chiamare un minuto per modo di dire, ancora più bello come titolo di Notabili, ma non troppo. Persone che lavorano nel mondo della cultura, nel mondo dell'informazione, raccontano a noi e a voi attraverso un video fatto in casa, che si sono fatti da soli e che hanno mandato proprio a me sul... Assolutamente. Nella maniera più semplice. E poi viene girato alla regia un libro, un viaggio, un film, un fumetto, un concerto, un'emozione che è stata importante per la loro formazione. È un modo di scambiarci stimoli, di scambiarci suggerimenti. Questa volta abbiamo per ospite, perdon, un Gianfranco Spidigli, uno studioso. Un antropologo. Un antropologo, insegna antropologia culturale all'Università di Teramo, facoltà di scienza della comunicazione, ha pubblicato tantissimo, ha una produzione scientifica veramente ampia, robusta, un studioso serio. Sentiamo quello che... Sentiamo che ci dice Gianfranco Spidigli, notabili ma non troppo. Vediamo. Il concontri con uomini straordinari è il titolo di uno straordinario libro del grande maestro armeno Giorgio Ivanovic Gurdjieff, che si è palesato in Europa intorno agli anni 20, influenzando generazioni di ricercatori, di studiosi, di musicisti, compreso ad esempio Franco Battiato. È un libro incredibile, a metà fra la metafora e la realtà. Non si capisce bene che cosa sia vero e che cosa sia inventato, ma quel che è importante è che l'obiettivo di Gurdjieff era quello di suscitare nel lettore, attraverso una serie di situazioni shock, di paradossi, di avvenimenti incredibili, una via verso il risveglio. E l'ho voluto citare perché voglio usarlo per dire che incontri straordinari sono possibili anche qui vicino e che per quanto mi riguarda nella nostra montagna, nelle nostre campagne, in un ventennio di frequentazioni, di incontri straordinari, ne ho avuti tanti con persone straordinarie. Voglio ricordarne una sola perché è impossibile parlare di tutte. Umberto Frattaroli, contadino di Colle d'Oro, scomparsa nel 2009, un uomo eccezionale che definiva il suo lavoro, quello del contadino, l'essere l'aiutante di Dio. Grazie a Gianfranco per questa bellissima emozione. Bellissimo video. Dico la verità, quando l'ho visto mi è piaciuto tanto, non solo per quello che Gianfranco dice, ma anche appunto come notavi tu per questo spessore umano che c'è fuori, mi sembra anche una punta di commozione nel finale. E voglio sottolineare che questo riferimento a queste persone che lui fa è frutto delle sue ricerche su campo, cose che appunto rientrano nella disciplina scientifica che lui autorevolmente percorre, perché è importante della nostra... E lui ha citato Gurdjieff, armeno, a facciamo, andiamo avanti con un'associazione di idee. La casa editrice Carabba, che è una storica casa editrice, che ha sede a Lanciano, che ha avuto dei meriti importantissimi, anche storicamente, in qualunque storia dell'editoria non potrete che trovare delle pagine dedicate a questa importante esperienza culturale, ha ripubblicato di recente questi canti popolari armeni, il riferimento a Gurdjieff mi ha suggerito di recuperare questo libro. Un libro, ho detto, ripubblicato perché? Perché uscì nel 1921, la cura di Domenico Ciampoli, che era uno slavista di Atessa, uno scrittore a sua volta, un nome comunque importante, seppur un minore appunto uscì con Carabba, e ora torna con una, addirittura, con una prefazione importante di Antonia Arlan e credo che leggere questi canti popolari armeni sia semplicemente, significhi semplicemente, non dover essere degli esperti di nulla, ma significa semplicemente fare un grande viaggio nella poesia, appunto nei canti popolari, che sono una particolare forma di poesia spontanea, chiamiamola così, trasmessa in maniera differente da quella che siamo abituati a considerare più usualmente poesia, naturalmente sono discorsi complessi che adesso sto semplificando, ma spero di avervi dato qualche dettaglio, qualche segnale utile a capire, questo libro è uno splendido viaggio in un'altra cultura, in un tempo diverso e ci ricorda questa lettura, è un po' il discorso che facevamo all'inizio con Laudomia Bonanni, che scusate, mi lo dico a costo di apparire retorico ogni tanto, rimarremo retorici, però veramente il senso dell'umano coincide con il senso della cultura di ciascuno, che è quella del confronto, è chiaro che sono anche cose impegnative e faticose, ma appunto perché è caduto un libro, impegnative e faticose vanno in qualche modo salvaguardate, protette. Allora io vi segnalo questo volume di canti popolari armeni che potete trovare perché è stato direttamente pubblicato, ma voglio anche riallacciarvi, dato che abbiamo parlato di canti popolari, io torno nell'albio del già citato Pierpaolo Pasolini, noi torniamo, ci riagganciamo al centenario di Pasolini, rimaniamo però connessi con il discorso letteratura popolare e vi segnavo appunto, perché siamo nel centenario pasoliniano, il canzoniere italiano. Io l'ho in due volumi, una monumentale antologia che lui fece nel 55, dove appunto ha censito, c'è anche l'Abruzzo, tutto questo patrimonio popolare, i testi popolari, l'Italia, è importante, l'Abruzzo è giustamente inserito in Italia meridionale, io amo che ci sia questa collocazione, questa distinzione, mi sembra giusto, poiché tanto si parla giustamente di Pasolini, è bene ricordare anche che Pasolini ha portato avanti, in piena, perfetta coerenza con la sua visione, anche ricerche di questo tipo. E cosa c'entrano in canti popolari con il canzone italiano? Tutto, perché sono forme di espressione identiche, nelle loro istanze generative e nel loro modo di toccare i punti essenziali del nostro stramundo. E li acquisiamo. Acquisiamo agli atti, risegniamo a passant, prima di concludere, il Pasolini e Moravia, due volte dello scandalo di Renzo Paris, mettiamoci anche questo, Rino, dallo a me, dalla scorsa settimana, ma lo voglio risegnalare perché merita, diamogli un'altra lampeggiata, eccolo, pronto, abbiamo coperto anche quest'altro argomento e voglio concludere questa corsa con un altro grande scrittore, un altro grande scrittore nato come Pasolini nel 1922. Parlo di, di chi parlo? Di Luciano Bianciardi. Di Luciano Bianciardi. Eccolo qui. Queste sono le copertine della... L'automia, ma ci arriviamo perché hai fatto una bella composizione con le... Eh, guardate. Adesso le vediamo a schermo pieno, eh. A schermo pieno ci sarà più facile. Sì, sì. Allora, Bianciardi, vi dicevo, è nato nel 1922, è morto nel 71, quindi sono cento anni dalla sua nascita, questa è la cosiddetta trilogia della rabbia. Sono in ordine cronologico, il lavoro culturale, l'integrazione, la vita agra. Ora, soffermarsi partitamente su ciascuno di questi libri sarebbe bello, ma difficile. Dico solo due cose. Vai. La trilogia della rabbia vi fa capire di che cosa, di che tempra di scrittore fosse questo grande, straordinario, rabbioso, intelligentissimo, intelligentissimo nel senso proprio dell'intelligere le cose, del capire le cose, scrittore, mai abbastanza ricordato, è stato, ha fatto bene qualche anno fa, purtroppo non l'ho portato con me, Gian Paolo Serino, un critico letterario molto in gamba, a pubblicare un libro su di lui, del quale ho avuto piacere di occuparmi all'epoca, con una recensione, oggi, mannaggia, mi sono dimenticato di portarlo, se no era il caso, ma mi piace segnalarvi due cose in chiusura, sia del lavoro culturale che dell'integrazione, partiamo dall'integrazione, due fratelli che lasciano la provincia per andare a Milano a lavorare nell'editoria, quindi c'è questo salto, attraverso la via della cultura, del lavoro culturale, che è appunto il primo titolo, dalla piccola alla grande città, e si integrano o non si integrano, questo si integrano nel sistema, vengono in qualche modo acquisiti, assorbiti dal sistema, in particolare uno dei due, Marcello, quello più brillante, quello più dotato, ne conosciamo le sorti e via dicendo, ma c'è un passaggio che alla fine mi ha molto corpito, quasi alla fine, una rivista lavora di, fa tanti lavori nell'ambito della scrittura, ma gli lo incarica di scrivere delle novelle, dei racconti di fantascienza, ma gli chiedono due cose, uno di firmarli con degli pseudonimi americani, che creano più facilità di consumo, due di scriverli, attenzione, questo è il dato estremamente importante, con uno stile che poi ha tradotto dall'americano, cioè con una lingua standard, una lingua basica, una lingua facile, una lingua di facile presa e di facile indirizzo per apprendere. Esattamente. Qualcosa che tempo fa Giorgio Ficara, che è un importante italianista italiano, scusate la ripetizione, italiano, un importante italianista, ha affrontato in un libro il cui titolo è Lettere non italiane, dove appunto lui se la prende giustamente, criticamente, su un certo andazzo che in qualche modo vede impoverita la lingua italiana, non nel senso della essenzialità che possono aver avuto scrittori come quelli di cui abbiamo parlato oggi, ma nella sua standardizzazione, nella sua riduzione a un qualcosa di basico. Questo è qualcosa che si trova all'interno dell'integrazione. Per quanto riguarda il lavoro culturale che invece io ho in questa edizione d'Antan, è uguale, non so se riusciamo con la regia a rivedere anche l'immagine di prima, tutte le immagini, le copertine. Eccolo qui. Nel lavoro culturale, se la ritrovo, proprio ieri sera l'ho segnata, ecco c'è una frase che mi sembra essere la parola d'ordine per tutto quello che si fa quando si parla di cultura, di libri, di qualunque forma di cultura. Un gruppo di ragazzi nella piccola città non sa bene che fare, cerca di muoversi appunto nell'ambito di un lavoro culturale tra le indolenze, le pigrizze, le lentezze del piccolo centro e un pomeriggio dopo aver fatto una sosta verso le tre in un bar, verso le tre e mezzo riprendono la loro camminata, se non sbaglio per il corso dalle parti del corso e nel fare questo incontriamo questa frase fermandoci ogni tanto a guardare una vetrina, un manifesto, un canezzoppo, eccetera eccetera. La frase da sottolineare è questa, fermandoci ogni tanto a guardare. Questo è quello che facciamo quando leggiamo i libri, quando guardiamo un film, quando andiamo a una mostra, quando ascoltiamo un concerto, è la metafora di quello che si fa. Ci distacchiamo da quello che stiamo facendo, veramente dedichiamo al nostro sguardo, facciamo sì che il nostro sguardo, la nostra attenzione tocchi qualcosa di importante. Questo ci ha insegnato Bianciardi, l'importanza di fermarsi ogni tanto a guardare, di avere una visione critica delle cose, uno sguardo autonomo, sciolto da ogni sudditanza, tanto è vero che ha stato in verità un anticipatore a suo modo anche della mutazione antropologica di cui ha parlato Pasolini nelle sue tante pagine se mi passi due libri facciamo così accanto ai libri una bella lampeggiata acquisendoli agli atti eccoci qua eccoci lo vedete però siamo arrivati alla conclusione di quest'altro appuntamento con i libri del villaggio grazie ma grazie a voi grazie a voi noi ci ritroveremo anche mercoledì prossimo con i libri del villaggio e con Bazar Culturale grazie arrivederci alla prossima arrivederci grazie a voi eccoci qua nel secondo brano del nostro Bazar Culturale cioè Spettacolario Spettacolario non è spettacolario se non c'è Barbara ovviamente Barbara Passerini c'è però è qui vicino a me ancora non la vedete ma tra un po' la vedrete sono come dire una voce fuori campo ciao a tutti ciao Rino ciao Barbara ci siamo Spettacolario ogni mercoledì insieme per parlare dello spettacolo dal vivo con qualche assaggio di qualcuno che ce lo fa vivere un po' più da vicino eh sì eh sì perché abbiamo sempre con noi dei personaggi che gravitano intorno al mondo dello spettacolo qualche volta artisti qualche volta direttori presidenti di enti e qualche volta anche maestranze oggi abbiamo un attore un attore ma non solo è direttore anche artistico vedi viene dall'Abruzzo ma vive a vive lavora a Roma ma quindi ci andiamo a collegare sì abbiamo con noi Walter Walter del Greco ciao eccolo buongiorno tutti ciao eccoci buon pomeriggio buon pomeriggio ciao Walter appunto dicevo di te che sei partito da un paese un piccolo paese dell'introterra abruzzese Orsogna che tra l'altro ha un teatro che è un bijou e per fare l'attore sei andato a Roma a iniziare questa e allora noi vogliamo conoscere adesso in questo collegamento di 7-8 massimo 10 minuti tutta la storia di Walter tutta la storia del greco mamma mia mamma mia ma la riusciamo a condensare Walter vero? ma come no 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 il dono della sintesi della sintesi della velocità quindi non vi preoccupate inizio dal fatto che si vengo da Orsogna in provincia di Chieti come dicevano come diceva Barbara insomma è un paese che ha una bella cultura teatrale insomma con Pino Silveri che è un grande autore abruzzese di commedie dall'età e ha dato in Natale a Mario Pomiglio tra l'altro Orsogna grande scrittore Mario Pomiglio anche anche al maestro Ceccarosi grande direttore d'orchestra era un maestro di corno e l'orchestra abruzzese di Orsogna era la famosa siamo arrivati fino a New York con la nostra orchestra quindi un piccolo paesino che adesso anzi andate a visitare anche la produzione Viti Vinicola visto che Orsogna adesso ha vinto diversi premi al Venitali ma non parliamo del paese no no non parliamo di Walter Walter del Greco insomma si è partito dal paese cosa ha fatto al 15 anni ha cominciato a fare teatro dialettale a un certo punto si è scritto all'università storia scienze tecniche dello spettacolo a Tor Bergata quindi ha iniziato la sua esperienza romana sia negli studi universitari e poi mi sono appassionato da una parte al teatro sperimentale e dall'altro al teatro comico quindi cominciate a fare i primi laboratori di cabaret di comicità con questi ben amati romani a te piaceva far ridere giusto? eh sì 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 mi è sempre piaciuto far ridere il signore della risata eh sì 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 il signore negli anelli mi è sempre piaciuto far ridere ero il classico simpatico da camera ok adesso al di là del timore reverenziale che la webcam può dare però mi piace anche far vedere che la dialettica è all'ordine del giorno mi è sempre piaciuto far ridere quindi da inesperto ho fatto prima l'Accademia del Comico di Roma sempre da Abruzzese perché la centralità mi fa piacere poterlo dire questo l'Abruzzese che deve far ridere a Roma se non sei in duccio fai una fatica che non finisce più poi riprenderemo un duccio come esempio vi spiegherò perché certo che è successo? l'Accademia del Comico di Roma il Comic Ring Show di Stefano Fabrizi che è uno dei protagonisti del Seven Show di Roma ai tempi degli anni 90 il Seven Show arrivava anche in Abruzzo lo ricordo nelle reti locali dove c'era insomma Antonio Giuliani che è famoso dove c'è stato Tema Muccare passava nelle tv private abruzzese anche il Seven Show sì come no il Seven Show sì esatto esatto e quindi che succede ho fatto un po' di laboratori fino ad approdare insomma arrivo ai giorni d'oggi e ho una scuola di teatro con 50-60 allievi con mia moglie Elettra Zeppi che attualmente in scena poi faremo pubblicità pure a uno spettacolo come dicano a Roma la tiramo però la facciamo subito guarda mandiamo la grafica dello spettacolo che state portando in scena 402 eccolo qua che bello così lo posso presentare mentre parlo sì sì la coincidenza è stata questa che sì sì adesso ve lo dico facendo laboratori comici lei che era attrice e regista gestiva anche un laboratorio di comicità dove ci siamo conosciuti e amati questo è uno spettacolo un thriller un giallo un vero giallo portato in scena sì 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 è thriller è scritto da Elettra Zeppi insieme a Francesco Mundi che è un editor della Rai quindi un bella anche una coppiata di prestigio se vedete con l'amichevole partecipazione di Paolo Celata sì Paolo Celata giornalista di La Sette lo vedo sempre a propaganda live esatto esatto lui ha si è venuto ovviamente anche in amicizia per quando ha letto il testo insomma gli ha fatto piacere fare una non vi posso dire cosa perché magari veniamo in Abruzzo una piccola una piccola esatto c'è un cameo di Paolo Celata da giornalista questo possiamo dirlo perché sendo un giallo c'è un intervento di questo giornalista non posso dire nulla perché è un giallo però è un senatore c'è questo senatore che combina qualcosa stanno giudicando in senato stanno decidendo sulla sua sorte sta in una stanza di hotel a un certo punto entra Anna questa donna in camera sua e succede di tutto e da lì non svegliamo non svegliamo non svegliamo non svegliamo non svegliamo torniamo però torniamo a Walter che quindi a Roma trova il suo terreno per esprimere giusto? sì esatto da buona abruzzese sottolineamolo da abruzzese di un paese di 4 mila anime 3 mila e 5 quasi 4 mi sono dovuto fare spazio tra sti romani i quali hanno sicuramente più come dire io gioco in casa quindi è arrivato sto comito abruzzese chissà che cosa vuole io vedo tutto bloccato lo schermo mi sentite? la voce arriva adesso è un po' radio ma tra l'altro scusami mi diciamo è tutto bloccato che faccio? continuo? magari Walter può no perché se si è bloccato può uscire e ricollegarsi al volo così ci proviamo a meno che dalla regia Cristiano mi dice che è stato ripristinato il movimento ma non credo no allora Walter se può rifare tanto non ci vuole nulla a riclicare e a rientrare lo aspettiamo lo aspettiamo quindi vedi l'abruzzese che se non sei il duccio come ci ha detto se non sei il duccio non è facile perché lui ha proprio può testimoniare di come in duccio spopoli anche rispetto ecco ecco ancora un paio di minuti quindi ce l'hai fatta comunque a fare quello che volevi fare questo è sicuro sì arriviamo ad oggi se no la faccio lunga che sento le domande che vuote arrivare al dunque vi percepisco a un certo punto fatta questo percorso nella comicità mi sono dovuto sgomitare tra i romani perché i romani non sapete io sono io e te non sei ecco alla fine abbiamo trovato e abbiamo insieme al direttore Giancarlo Gagliardi originario di Pescara viva l'Abruzzo quindi un altro abruzzese a Roma sì sì ha avuto un'idea geniale ha detto riapriamo il Seven Show lì dove è nato che adesso si chiama Pala Seven Show ed è tornato ad essere il regno della comicità di Roma e abbiamo fatto diversi spettacoli quei comici di Colorado Zellig comici romani ovviamente e quello che diceva che stavate dicendo adesso la serata con più partecipazione è stata quella con Duccio abbiamo fatto che abbiamo dovuto spostare per motivi tecnici ma a livello di prenotazioni abbiamo avuto il sold out con Duccio direttamente dall'Abruzzo cosa che con i romani non era successo quindi viva l'Abruzzo hai capito Duccio che segno ha lasciato da Abruzzese allora noi facciamo grandissimi bocca al lupo a Walter del Greco e soprattutto per questo spettacolo 402 402 è uno spettacolo un po' thriller quindi bisogna andare a vedere per scoprire che cosa nasconde grazie Walter grazie a voi vi saluto dicendo che tornerò con lo spettacolo mio comico invece che si chiama Fregete che è tutto bene è un biglietto da visita di un certo livello Vero? Sì 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 e racconta proprio questo un abruzzese tra piattato a Roma che vive la sua esperienza quindi chiudo il cerchio così un abbraccio è la sua storia bellissimo grazie Walter grazie 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 e in bocca al lupo per tutto allora abbiamo quindi visto già assaggiato lo spettacolo Dio grazie alla presenza di Walter del Greco prima di andare al nostro weekly cioè alla rassegna degli spettacoli che ci sono adesso in giro in provincia di Teramo e in tutto l'Abruzzo andiamo invece dalla nostra andiamo dalla nostra prova mi è sembrato di leggere prima che cosa prima c'era scritto Claudia no? Claudia c'era scritto perché c'è perché io sono sicura che è vero che l'ho letto Claudia? Rino volevi già andare al weekly eh? volevi saltare questa parte perché è vero che Rino quest'oggi si merita una tirata d'orecchie ma io me la merito sempre però sempre però oggi forse di più vedi che lui ci prova ma io sono qui eh Claudia ma sbaglio o ho letto ho letto il tuo nome sulla locandina dello spettacolo 402 ecco quello volevi dire ah ah no non è perché Claudia non è qui a caso è che lei è un'organizzatrice ma poi ama proprio il teatro ma recita anche è un'attrice tutto inizio sì in realtà sì eccola ormai è proprio un amante appassionata del teatro bisogna farne tanti per riuscire a portare a casa la pagnotta e quindi brava io ne so qualcosa brava Claudia esatto tutti noi ho cambiato ma vediamo sì ho cambiato come giustamente la regia ha commentato quando mi sono collegata per fare i test mi ha detto ma stai montando la libreria e io ho detto no è un fondale finto di quelli che si usano e quindi serve per mostrare un po' di un po' di cultura un po' di cultura via allora dove ci conduci Claudia oggi ho un po' di ho un po' di materiale Claudia eh ci ho avviso vediamo molto rapidamente parliamo di un aspetto che se volete interessa sia i teatri che le compagnie che i singoli artisti ma vediamo un attimo il collegamento tra il marketing e il sport in questo caso cioè sempre più spesso sia i teatri che le compagnie si devono un po' pensare come soggetti anche commerciali imprenditoriali e quindi vado a andare sul concreto devono pensare che l'unico non può essere solo il biglietto d'ingresso l'unica entrata e quindi ci sono alcune alcuni teatri anche storici come il Teatro Reggio di Torino ad esempio prego la regia che è sempre in assiste di mandare questa immagine il Teatro di Reggio di Torino che ad esempio ha lanciato uno shop quindi un vero e proprio negozio all'interno del foyer dove vengono venduti pezzi unici realizzati dalla loro sartoria teatrale possiamo passare oltre vi faccio vedere anche lo hanno promosso sia su Facebook che su Instagram e hanno mandato questo piccolo video che possiamo mandare anche senza audio regia perché tanto ci parliamo sopra vai si mostra semplicemente la promozione di questo shop di oggetti appunto realizzati vedete dalla sartoria teatrale questa è una quella con le farfalle le farfalline la voglio ed è quello che hanno commentato anche gli utenti cioè sui social hanno detto che bello vengo a comprarlo eccetera eccetera questa è una modalità chiaramente un piccolo esempio ma ce ne sono anche di più importanti ad esempio il Teatro San Carlo ha stretto una sponsorship quindi viene sponsorizzato dalla pasta di Martino che è una pasta che è una pasta campana con distribuzione chiaramente internazionale ma quello che vi voglio far notare è appunto che anche i social in questo caso ci raccontano di questa partnership ci raccontano appunto che Pasta di Gragnano racconta musica per il palato ma anche andando avanti ci mostra che si è materializzata delle confezioni vere e proprie per la pasta a tema a tema Teatro San Carlo e non solo sempre attraverso i social possiamo arrivare all'ultima immagine viene mostrata la confezione appunto brandizzata pacchettizzata a Teatro San Carlo all'interno del Teatro San Carlo stesso questi sono tutti esempi di cui le sponsorizzazioni entrano anche nella cultura questo è un altro esempio questo è il Caffè Borbone che promuove la prima della luce di Lammermoor si ingegnano comunque triplo salto mortale di media integrazione tra i media proprio spettacolo spettacolo diciamo comunicazione off classica e poi web e social sì assolutamente ma io credo che la ragione ed è questo il fil rouge che collega i due tre esempi che abbiamo visto visto sia la necessità che la cultura non si deve fermare ma fa fatica perché chiaramente monetizza meno delle altre attività commerciali e quindi in qualche maniera bisogna capire come senza svendersi e svenderla riuscire a sostenerla economicamente anche con piccole esperienze queste 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 sono anche di ispirazione per certi versi perché raccontano diciamo che la parte commerciale non entra a gamba tesa e quindi non va a corrompere se vogliamo l'aspetto culturale dello spettacolo ma lo sostiene gli fa un po' da spina dorsale spero che vi sia piaciuto questa volta da Rino delusa perché avevamo pensato che dovessi fare il famoso trend della scorsa settimana ma scusami non me l'ha ricordato no non glielo ho ricordato è vero è vero e che vuoi fare adesso che pericolo adesso no 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 non ci provare noi dovevamo ballare dovevi ballare avevo dovuto ballare io non mi sono preparata Rino perché se fossi preparata te lo farei fare qui in diretta no ma cara Claudia lo faremo dopo lo facciamo dopo promesso un passo doble guarda che lo dici qui davanti a tutti davanti a Claudia e davanti a tutti gli spettatori di spettacolario ecco sì sì una promessa sui social è vincolante Rino è vincolante per forza grazie Claudia con questa promessa vi bacio vi abbraccio vi lascio al weekly ci vediamo la prossima settimana grazie ciao Claudia grazie grazie allora sì il weekly perché il weekly sembra che invece ci vuole bene c'è del ricco c'è del ricco e tra l'altro abbiamo una se un proprio iniziamo con un'importante notizia qui qual è l'importante notizia l'importante notizia è che era in programma proprio questa sera al teatro comunale la la prima il primo appuntamento della stagione di ACS Misericordia ha scritto e diretto da Emma Dante che abbiamo annunciato invece è rinviato invece è rinviato causa covid eccolo là perché pare che la compagnia sia stata colpita più di un di un attore insomma ha contratto il covid quindi è rinviato e la data ancora non è definita insomma ce la diranno la diremo anche su nelle prossime puntate di spettacolario vi terremo aggiornati però abbiamo dato notizia sì bene invece secondo appuntamento questo è un appuntamento particolare è nata una rassegna musica e libri musica e libri al Braga conversazioni sui libri con preludio musicale ed è una collaborazione tra il conservatorio Braga di Teramo e ricerche e redazioni e hanno messo su questa serie di appuntamenti il primo è Abruzzo tipografico Annali del XVIII secolo di Luigi Ponziani questo è il libro edito da ricerche e redazioni e poi però c'è il preludio musicale ed è per quello che lo inseriamo all'interno del nostro weekly chiaramente altrimenti sarebbe appannaggio esclusivo di Simone brava dei libri dei libri del villaggio e quindi c'è un preludio musicale di Elisa Casimirri Mozart suonata numero 11 in La Maggiore il tutto quando succederà il 19 il 19 marzo alle 18 alle 18 all'istituto Braga al Braga proprio in corso San Giorgio sì al conservatorio poi poi abbiamo l'appuntamento quindi andiamo adesso fuori provincia al Teatro Circus di Pescara il 15 marzo alle ore 21 e scusami già c'è stato ieri un appuntamento ma anche stasera adesso alle 17 in pratica adesso e poi alle 21 stasera c'è sempre Carlo Buciroso che avevamo già presentato nella scorsa puntata di weekly con la rottamazione di un italiano per bene esatto bravo Buciroso allora Claudio Baglioni che io ho annunciato sempre nello scorso weekly perché era sul Monal Maria Caniglia fa un'altra data eccolo là eccolo ad Avezzano al Teatro dei Marsi giovedì 17 domani marzo quindi domani alle 21 sempre nel suo tour 12 note solo quindi anche tra l'altro però scusate ecco io lo annuncio ma in realtà ho visto poi poco fa che è sold out se volevi andare tu volevi andare io stavo partendo stavi partendo e invece è sold out va bene però si terrà lo stesso chi ha preso il biglietto ne godrà si godrà Claudio Baglioni questa è una bella una bella scheda mi piace molto perché questo spettacolo in realtà l'ho visto è Fontamara chiaramente dal romanzo di Ignazio Silone ma la drammaturgia è di Nicolini e al ridotto del Teatro Comunale dell'Aquila ci sarà giovedì 17 marzo alle 21 e venerdì 18 alle 17 e 30 per la stagione del TSA questo spettacolo è prodotto da TSA è il Teatro Lanciavicchio e è stato in residenza al Teatro Comunale di Teramo quindi noi teramani abbiamo avuto la fortuna di poterlo vedere in anteprima in realtà ed è molto intenso molto forte la storia dei cafoni di Labruzzo esatto portata sulla scena da questi bravi protagonisti appuntamento domani e dopodomani all'Aquila poi sempre per la prosa abbiamo la proposta del Teatro Off Limits ad Avezzano il Castello Orsini venerdì 18 marzo alle 21 si chiama Equitalia lo spettacolo e il tema lo lascio immaginare ecco con Chiara Mancuso Massimiliano Aceti scritto e diretto appunto da Massimiliano Aceti quindi al Castello Orsini di Avezzano venerdì 18 marzo alle 21 questa è la stagione del Castello Orsini del Teatro Off Limits altro spettacolo allora è un concerto un concerto da non perdere perché abbiamo Davide Cabassi che è un virtuoso del pianoforte è top prize winner al Van Cleburne International Piano Competition del 2005 è uno di quei pianisti che insomma bisogna andare a sentire perché non proprio non ci si annoia mai ha un repertorio vastissimo e lui sarà in concerto al Teatro Massimo di Pescara venerdì 18 marzo alle 20 Davide Cabassi Davide Cabassi ecco andiamo avanti la prossima proposta la prossima proposta è una è nota abbiamo la diciamo il secondo step di Neve di Carta a Roma all'Altrove Teatro Studio ricordiamo che Elisa De Usanio la nostra attrice terramana insomma sulle scene sia televisive che di teatro porta Neve di Carta all'Altrove Teatro Studio anche il 18 19 e 20 perché aveva avuto anche delle date sì ne parliamo l'altra volta con lei nell'altro weekly esatto è uno spettacolo dove Elisa De Usanio recita insieme ad Andrea Lolli ed è una storia che riguarda proprio una storia d'amore ambientata ai tempi del manicomio terramano tra una paziente del manicomio tratto dal lavoro di Anna Carla Valeriano tratto dal lavoro di Anna Carla Valeriano e ci diceva che c'è appunto anche una mostra lì all'Altrove Teatro Studio una mostra che riguarda lo spettacolo bene bene 18-19 20 marzo a Roma poi allora un altro un altro spettacolo sempre al Teatro Studio scusami questo è il Teatro Studio di Treglio sabato 19 marzo alle ore 21 è uno spettacolo di teatro danza si chiama Apocalisse la regia e l'ideazione sono di Maggi Stalice sì bene sabato 19 marzo alle 21 a Treglio a Treglio poi Teatro Marruccino per la stagione sì per la stagione musicale ecco questo è l'appuntamento che ci propone domenica 20 marzo alle ore 18 quindi a Chieti sì De Ruscian piano duet Sofia Sacnova e Antonina Lusco domenica 20 marzo alle 18 sono due pianiste molto brave bene quindi dopo la musica che ci proponi dopo la musica adesso vediamo eccolo qua non è altra musica è la prosa sì Zifonzo 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 con Pierluigi Tortora al teatro comunale di Civitella Robeto sempre per la stagione del teatro Off Limits che fa due stagioni una ad Avezzano e una a Civitella Robeto domenica 20 marzo alle ore 17 bene eccolo qua Pierluigi Tortora in Zifonzo poi questo è la proposta del Florian Space di Pescara domenica 20 marzo alle ore 19 questa rassegna si chiama femminile plurale e chiaramente esatto chiaramente parlano le donne l'arte delle donne quindi donne nell'arte nelle varie discipline in questo caso abbiamo uno spettacolo si chiama Compositrici quindi si tratta chiaramente di musica ci proporranno la musica di diverse compositrici diciamo non sempre esaltate nonostante la loro capacità con Simona un po' Lorella al pianoforte Giovanna Barbati al violoncello Lorenza su un monte al flauto abbiamo le voci recitanti di Giulia Base e le Antonella De Collibus ecco questo è uno spettacolo tutto al femminile bene a Pescara andiamo avanti e eccoci ecco vi porto all'Uomo dal fiore in bocca questo è uno spettacolo che era stato che è stato rimandato a domenica era previsto adesso non mi ricordo il giorno però insomma era previsto la settimana quindi è un recupero è un recupero domenica 20 marzo alle ore 19 al teatro Talia di Tagliacozzo l'Uomo dal fiore in bocca in scena Lucrezia Lante della Rovere e da una storia di Luigi Pirandello bene anche qui è una grande attrice in scena sì la è molto brava qui da una grande attrice è un grande attore e lui è un grande attore Silvio Orrando in La vita davanti a sé questa è la proposta del Teatro De Marsi per la stagione di prosa ha avuto veramente tanti nomi importanti lunedì 21 marzo alle ore 21 ci propone questo spettacolo con diciamo la sferzante ironia di Silvio Orlando che è un mostro del palcoscenico inutile voglio dire lodare questo è veramente è un personaggio che tiene il palco in maniera eccezionale al Teatro De Marsi di Avezzano sì ad Avezzano 21 alle 21 non si può sbagliare e siamo ai più piccoli ai più piccoli che lo sai io adoro abbiamo ben due appuntamenti questa settimana Carorino vediamo allora il primo appuntamento eccolo qua lo troviamo adesso arriva arriva il primo appuntamento anche io riuscirò a girare la pagina eccolo si chiama piccolo piccolissimo è grande grandissimo allora questo è tratto da CP di Mario Lodi con Massimo Sconci Maddalena Celentano e il testo di Gabriele Ciaccia e la regia di Valentina Ciaccia domenica il 20 marzo alle ore 18 al Teatro Comunale d'Andrea di Pratola Peligna quindi uno spettacolo tra l'altro tratto da un libro conosciutissimo per bambini CP bene e l'ultima l'ultima proposta eccola qui è un altro classico in realtà un po' rivisitato ma è un soldatino quindi diciamo trae ispirazione dal soldatino di Stagno il testo di Laura Liotti con Ingrid Monacelli Claudio Massimo Paternò la regia è di Claudio Massimo Paternò al Teatro Z la domenica 20 marzo alle ore 17.30 uno spettacolo per tutta la famiglia bene bravissima Barbara percorso netto ce l'abbiamo fatto netto ce l'abbiamo fatto anzi siamo anche leggermente 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 bene tanti appuntamenti anche questa settimana grazie a Barbara grazie Rino ci ritroveremo mercoledì prossimo ci ritroveremo adesso Rino dobbiamo andare a fare il balletto andremo a fare il balletto è una punizione per voi spero di no spero di no per quanto riguarda Barbara no per quanto riguarda me potrebbe essere no 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 però noi vi ringraziamo per aver partecipato a quest'altro numero di Bazzar Culturale è spettacolario che è sempre il secondo brano grazie ciao grazie arrivederci grazie